ma tolga mascherina si togli togli hotello sinforosa uno dei protagonisti di questo miss cilento sempre presente a tutte le manifestazioni malgrado le nostre manifestazioni di poco affetto nei suoi confronti ma comunque è un bravo ragazzo hotel ma tu che fai nella vita perché poi alla fine vorremmo capire tutto buonasera a tutti innanzitutto siamo qui presso l'hotel il salante davis e costagneto una struttura meravigliosa di mercato cilento frazione di perdifumo e vicino ad altri paesi agrope io mi sono diciamo appassionato all'inno moraldi all'inno production e al mondo qui dei concorsi di bellezza io mi occupo di pubblicità a largo raggio ho iniziato così per scherzo poi sono appassionato e quindi di un modificio promoter come è un promoter responsabile per la pubblicità dei locali eventi aziende in generale ma tu sei stato anche protagonista di una trasmissione di paolo bonolis si grazie diciamo oltre a diversi amici ho avuto una soddisfazione talmente grande che ancora ricordo e con emozione la voglio raccontare sono stato valetto e si sente in primis della trasmissione avanti un altro con paolo paolo bonolis e luca laurenti il canale 5 quindi conservi un bel ricordo di un po' antipatico no a me no invece laurenti no laurenti più taciturno però una bellissima persona questo è stato il 9 marzo 2020 e poi andate in replica il 10 di maggio 2020 è stato proprio è nato il giorno prima che poi si è scoppiato proprio clamoroso il comit insomma in modo va bene e stasera è anche una serata per stare insieme per divertirsi in questo assoluto ripeto meraviglioso nel cilento e quindi miss cilento pallodigliano al burni che sono tre territori in provincia di salerno un abbraccio voglio bene sottoscritto officio promoter hotello antonio sinforosa evviva pallodigliano il pilo il cilento e l'albun e viva il sud grazie ciao ciao caro ciao